Buongiorno, allora benvenuti a questa giornata Sedan Free, laboratorio costituente per l'evacuazione dei migranti della Libia, è la mattina di venerdì 3 maggio, siamo ancora pochi ma la giornata è lunga e siamo contenti di avere la possibilità di organizzare un momento in cui molte delle realtà che si sono occupate di Libia e che si stanno occupando di Libia in Italia avranno la possibilità di confrontarsi. Sono in particolare molto felice del fatto che Exodus, fuga dalla Libia, il lavoro che faccio ormai dal settembre scorso se non altro funziona in questo momento come pretesto appunto per questa occasione di confronto che speriamo al termine della giornata troverà la forza e magari anche le idee giuste nella direzione che i migranti ci stanno chiedendo in pratica dall'estate scorsa, da quando ho trovato il modo per entrare in contatto con centinaia, migliaia di loro attraverso internet e la richiesta unanime che tutti loro hanno fatto, hanno rivolto a noi europei attraverso i messaggi inviati a Exodus è stata sin dall'inizio quella dell'evacuazione. Quindi dobbiamo cogliere il momento perché adesso molti stanno parlando di evacuazione a causa del conflitto in corso in Tripolitania ma dobbiamo anche renderci conto che l'evacuazione era la richiesta anche prima che il conflitto cominciasse. Questo perché c'è stata una grossa difficoltà a raccontare quello che la Tripolitania in particolare è diventata negli ultimi anni perché non è stato possibile accedere alla Tripolitania e raccontarla. In particolare gli stessi visti per i giornalisti sono stati concessi con molta parsimonia e anche coloro che hanno avuto la possibilità di visitare i famosi centri di detenzione così come il personale dell'UNHCR hanno potuto fare delle visite in qualche modo contingentate. Significa che sono sempre stati comunque scortati dalle milizie e dai guardiani del carcere che hanno fatto in modo di far passare con il contagocce la realtà. In particolare è arrivato un messaggio questa mattina che vorrei leggervi giusto per farvi capire quali sono le dinamiche sul campo. Il messaggio è arrivato da un migrante che si trova detenuto nel centro di Tajura e che è stato, lui viene dal sud Sudan, è stato nelle scorse settimane impiegato come soldato, è stato costretto al fronte e anche negli ultimi giorni è stato al fronte ma settimana scorsa una troupe della BBC è stata a Tajura per fare un reportage, uno di questi reportage che poi, non lo so, forse giustamente o a torto, non lo so, vengono venduti come grandi scoop ma lui dice esattamente così, provo a tradurlo al volo, dice la polizia la polizia mi sta cercando nel carcere, sono molti, a Tajura sono quasi un migliaio di persone tra l'altro non dobbiamo immaginarci un carcere come noi ce l'aspettiamo qui in Europa in realtà sono dei casermoni dove vengono buttati alla rinfusa molto spesso senza avere nemmeno lo spazio fisico per sedersi a terra, quindi la polizia mi sta cercando perché mi vogliono mettere in un ramo della prigione sotterraneo, quindi nascosto, perché hanno visto il servizio della BBC che hanno fatto intervistandomi la scorsa settimana e quindi ho molta paura perché se mi trovano rischio grosso. Allora questa è anche una dinamica che con Exodus abbiamo potuto verificare ormai da diversi mesi quando i migranti ci raccontavano esattamente come avvenivano le interviste con i giornalisti o anche semplicemente le visite dell'UNHCR cioè la questione è questa, o loro raccontavano il falso perché comunque i miliziani erano sempre lì ad ascoltare i colloqui oppure quando si arrischiavano a raccontare effettivamente quali erano le condizioni del carcere sono andati incontro a tortura, una tortura punitiva in questo caso. Ho parlato personalmente con l'inviato speciale dell'UNHCR per il Nord Africa, Vincent Cochetel, a Tunisi alcune settimane fa e lui stesso mi ha detto che ormai da diversi mesi l'UNHCR rinuncia a fare queste interviste perché si è reso conto di questo meccanismo e hanno capito che chiedere ai migranti di raccontare esattamente quello che succede all'interno dei centri di detenzione gli espone alla tortura, alla punizione. C'è un altro dato che Vincent Cochetel mi ha riferito che trovo estremamente importante, mi ha raccontato che su dieci richieste di visto che l'UNHCR sottopone al governo Sarraj a Tripoli per il proprio personale internazionale chiamato a lavorare, a operare sul terreno, solo tre vengono accettate dal governo di Sarraj. Mi sembra che questo sia un dato indicativo che dalla misura di quale sia il margine di operatività che l'UNHCR, così come tutte le altre organizzazioni e enti che lavorano in Libia, hanno sul terreno. Sostanzialmente è molto limitato, molto poco, perché sono sostanzialmente sotto ricatto. Sarebbe interessante, penso che uscirà nel corso della giornata, capire anche le cause, come siamo arrivati a questa situazione in Tripolitania che possiamo dire forse non ci siamo ancora resi conto fino in fondo, quello che è diventata Tripoli, la zona costiera, soprattutto occidentale della Libia in questi anni. Ma sicuramente sono stati fatti grossi errori, chiaramente la stampa italiana giustamente nei mesi scorsi si è soffermata sulla decisione che è cominciata con l'ex ministro Minniti di finanziare direttamente alcune delle milizie sul campo affinché non permettessero ai migranti di imbarcarsi, però credo di poter dire, dopo aver ascoltato ore e ore di messaggi vocali inviati dai migranti o anche semplicemente i chilometri di chat che ci siamo fatti in questi mesi, che nel momento in cui le Nazioni Unite hanno deciso di riconoscere il governo Sarraj e quindi il governo italiano e i governi europei hanno internazionalmente riconosciuto il governo Sarraj. Concretamente questo ha significato consegnare centinaia di migliaia di migranti nelle mani delle milizie e questo non solo perché loro non partissero e non si imbarcassero verso l'Europa, ma perché i migranti in Libia sono diventati fonte di reddito in qualche modo per le milizie, una delle più importanti. In che modo? In due modi. Una è la tortura a scopo di estorsione, significa che il meccanismo è stato comunque già raccontato anche dal mainstream in qualche modo e cioè il migrante viene sottoposto a tortura mentre i miliziani chiamano al telefono la famiglia e quindi chiedono soldi e in caso di mancato pagamento il migrante, nella migliore dell'ipotesi, continua a rimanere nel centro di detenzione esposto a tutto questo tipo di violazioni o altrimenti in alcuni casi trova addirittura la morte. Un altro modo per fare soldi sui migranti è il lavoro forzato non retribuito. Tant'è vero che penso che uno degli elementi più importanti che emergono dall'autonarrazione che i migranti fanno di se stessi attraverso Exodus è quello che in fondo alla fin fine non ci sia grande differenza tra dentro e fuori le carceri. Per esempio, se guardiamo i numeri, i dati dell'UNHCR ci dicono che tra i centri di detenzione ufficiali e quelli non ufficiali, i numeri dei migranti attualmente in stato di detenzione sarebbero intorno ai 20.000. La stessa UNHCR ci dice che i migranti in Libia sarebbero intorno ai 700.000, quindi verrebbe da pensare che gli altri 680.000, tutto sommato, vabbè, forse non se la passeranno benissimo, però magari possono aspettare un mese, due mesi, qualche mese, forse un anno, magari possono aspettare che cade il governo italiano e che quindi le navi vengano, venga concesso alle navi di, più che navi sono gommoni sgonfi, di lasciare le cose della Libia in direzione dell'Europa. Non è così, perché i migranti attraverso Exodus sin da settembre, e questo solo perché prima non potevano farlo, stanno chiedendo i miei dati di evacuazione perché non c'è differenza tra ciò che succede fuori e ciò che succede dentro. Voglio raccontare un episodio che secondo me è significativo, tra l'altro si trova nella puntata 0.6 di Exodus che stavamo ascoltando ora, di un ragazzo somalo con cui sono in contatto dal gennaio scorso, che stava fuori, quindi tra virgolette era libero, stava in compagnia di altri 5 connazionali, ha passato tutto l'inverno all'addiaccio, abbiamo cercato di aiutarlo mettendolo in contatto nel suo caso per esempio con il Cesvi che gli ha potuto dare del denaro cash con tanti in mano, con cui si sono pagati l'affitto in un buco, in un ghetto di Tripoli per quasi due mesi. Però all'inizio di marzo, visto che purtroppo non c'era stato più modo di ritirare questi soldi, era talmente spaventato all'idea di stare in mezzo alla strada, che è andato volontariamente a bussare alle porte del carcere di Kasser bin Gashir. Perché? Perché aveva sentito da connazionali presenti all'interno che nelle ultime settimane l'UNHCR stava effettuando dei voli di evacuazione verso il Niger per le nazionalità che vengono considerate appunto aventi diritto allo status di rifugiato, stiamo parlando di Eritrea, Somalia, Darfur e quindi si è costituito diremmo quasi, solo che è andata male perché a un certo punto è scoppiata la guerra e quindi ovviamente l'UNHCR non ha avuto più diretto accesso al carcere in particolare, la storia di Kasser bin Gashir è molto interessante e vorrei brevemente raccontarla perché è uno di questi centri di detenzione che è rimasto per settimane preso tra le linee del fronte. Subito il giorno successivo all'inizio dei combattimenti la polizia normalmente presente all'interno del centro è fuggita, ha lasciato il centro incustodito, i migranti da soli sostanzialmente si sono chiusi all'interno, sono rimasti per più di due settimane senza acqua e senza cibo, soltanto sporadicamente una ONG locale libica era riuscito a portare un po' di ristoro, un po' di pasta, scotta da mettere sullo stomaco e sono successi alcuni episodi che secondo me è importante raccontare perché forse raccontano in maniera esemplare anche quello che stiamo cercando di fare come Exodus e poi in questi mesi in particolare grazie all'aiuto di Stalker. Loro ad un certo punto la polizia libica si è recata per ben due volte nel centro di detenzione con degli autobus con l'intenzione di evacuarli presso altri centri perché effettivamente erano ormai isolati, presi tra le linee. I migranti all'interno del centro, stiamo parlando di più di 500 donne, bambini e uomini, hanno rifiutato questa evacuazione sostenendo di essere pronti a morire all'interno del carcere finché non verranno evacuati dalla Libia. Non accettavano quindi il trasferimento da un centro all'altro perché sostanzialmente dicevano noi siamo consapevoli di quello che la Libia è diventata in questo momento e siamo consapevoli di avere diritto a un'immediata evacuazione perché proveniamo da paesi in guerra e abbiamo già il tesserino ufficiale con il numero rilasciato dall'UNHCR come richiedente asilo, c'è addirittura un conflitto in corso, noi dobbiamo immediatamente essere evacuati e quindi non accettiamo di essere trasferiti da un centro all'altro perché non cambia nulla, la Libia è un posto non sicuro per tutti in particolare in questo momento. Quindi per ben due volte gli autobus sono arrivati al centro e sono tornati indietro perché i ragazzi non hanno accettato di salire sugli autobus. Ecco, io penso che quando noi diciamo, quando parliamo forse un po' prosaicamente di cambio di paradigma oppure quando parliamo di riconoscere i migranti in Libia come soggetto politico ci riferiamo a questo, nel senso che le loro richieste sono al nostro avviso il punto di partenza di tutta la questione, in particolare perché loro sono lì ancora oggi in questo momento con i piedi in Libia, loro conoscono sicuramente la realtà molto meglio di noi, loro hanno la possibilità di descriverla e di raccontarcela. Purtroppo la narrazione su Casa Ervinga Shea nelle scorse settimane è andata in un'altra direzione perché molti hanno preferito in qualche modo raccontare la vicenda che l'UNHCR non interveniva e si era in qualche modo scordata di questi ragazzi prese tra le linee. È successo un episodio molto grave. Il 23 aprile un commando, una macchina di soldati si è recata al centro e ha aperto il fuoco sui migranti. Abbiamo probabilmente visto tutti i video di quello che è successo, della sparatoria, del sangue, dei feriti, dei due morti che ci sono stati. Il racconto che è stato distribuito ai media internazionali è stato quello di un assalto delle forze di Haftar al centro e quindi il giorno successivo, il 24 aprile, la polizia si è di nuovo recata al centro di Casa Ervinga Shea con gli autobus e questa volta sono riusciti a trasferire, uso il linguaggio che usano loro in inglese, a trasferire i migranti in un altro centro e quindi tutto a posto, tra virgolette, due morti più di 20 feriti per arma da fuoco però perlomeno sono stati messi in salvo. In realtà tutto il contrario perché ci siamo accorti grazie alle testimonianze dei migranti stessi che i soldati che hanno fatto questa operazione, questa sparatoria, innanzitutto non erano forze ma era solo una macchina, sono arrivati al centro chiedendo soldi ai cellulari, i migranti si sono rifiutati, questi hanno aperto il fuoco, probabilmente erano banditi comuni, probabilmente appartenenti a una brigata, quella di Tarhuna, che in questo momento sta facendo un doppio gioco, sta un po' con Sarraj, un po' con Haftar e guarda caso il giorno dopo è partita l'evacuazione perché dopo quasi tre settimane senza cibo e acqua e di fronte a un episodio così violento i migranti hanno ceduto il loro fronte di fermezza e sono stati convinti a salire su questi autobus e trasferiti in un altro centro. Però bisogna raccontare anche la seconda parte di questa storia perché dove sono stati trasferiti? Sono stati trasferiti a Zawia nel centro di detenzione di Osama che è uno dei più grandi criminali presenti in Tripolitania in questo momento, uno che gestisce in maniera del tutto privata il suo centro di detenzione ed è famosissimo per andare con una sua nave privata che non è nemmeno in qualche modo arruolata all'interno della cosiddetta guardia costiera libica a recuperare i migranti in mezzo al mare, anzi a rapire, a sequestrare i migranti dal mare e portarli al suo centro di detenzione dove vengono sottoposti da tortura a scopo di estorsione e infine venduti. Quindi lui fa i soldi in questo modo. Ora io ho parlato con l'NHCR in Tripoli e ho chiesto ma siete stati voi a coordinare questo trasferimento? Loro hanno detto no, questa è stata una decisione del governo Sarraj, ci hanno avvisati all'ultimo momento, siamo arrivati lì di corsa con il personale libico dell'UNHCR ovviamente e abbiamo accompagnato giusto un attimo questi ragazzi al centro di Zawia. Kasser Vingashir si trova a sud di Tripoli, Zawia si trova sul mare. Ovviamente i ragazzi già mi stanno raccontando e vediamo se riusciamo a collegarci direttamente con uno di loro che già vengono trattati malissimo all'interno del carcere, Osama ha interloquito con loro, li ha minacciati, gli ha detto voi siete proprietà mia quindi sarete presto venduti. L'UNHCR aveva cercato di strappare la promessa di avere la possibilità di accedere al centro di detenzione quotidianamente ma questo già non sta avvenendo e devo dire che i miei personali timori sono quelli che questo trasferimento da Kasser Vingashir a Zawia sia stato un trasferimento strategico perché in caso di rovesci chiaramente Osama che ha anche forti contatti con la galassia islamista presente in Tripolitania probabilmente sarà una delle prime persone che le forze di Haftar andranno a prendere quindi io penso che non è stato casuale questo trasferimento perché questi migranti rischiano di trovarsi a essere scudi umani. a protezione di questo carcere, a protezione di questa milizia. Vi racconto questa storia perché penso che sia emblematica di cosa significa essere in diretto contatto con i migranti perché loro hanno la possibilità di vedere le cose con i loro occhi e di raccontarcele. Noi siamo forse in questi anni ci siamo abbandonati alla credenza per cui che chiaramente ci appartiene profondamente come italiani che fa parte della nostra storia, della nostra cultura quella di aspettare le persone che arrivano dal mare, di accoglierle, di aprire i porti tutto questo è molto bello e deve continuare però è successo qualcosa in Tripolitania penso, anzi sono convinto che ne parleremo diffusamente oggi c'è stato un salto di qualità ecco perché i migranti non si sono limitati in questi mesi a chiedermi porti aperti ma letteralmente hanno chiesto che noi li andassimo a prendere perché altrimenti non avevano possibilità di mettersi in salvo. e niente abbiamo cominciato anche con un po' di ritardo ora vedo se c'è possibilità di collegarmi telefonicamente ma vedo che il messaggio che ho mandato via Whatsapp non è arrivato quindi probabilmente o il telefono è spento o forse non c'è campo no, io ce l'ho a campo sì, sì come? no, no, non c'è campo là, dico comunque l'ho mandato anche prima che stavo fuori quindi proprio non è arrivato abbiamo già sentito alcune testimonianze comunque Exodus si trova disponibile online su una pagina dedicata di Vimeo ci sono sette puntate tra i 40 minuti e l'ora e come dicevo sono messaggi vocali in questo caso era una telefonata però di solito sono messaggi vocali che io chiedo a loro di mandarli anche perché molto spesso non è che possano sempre essere disponibili al telefono quindi possono scegliere con i loro tempi quando registrare un messaggio quando inviarlo e anche quali sono le loro priorità e quello di cui vogliono parlare vediamo tempo reggio ancora un attimo con Alessandra forse sì allora nel frattempo che insomma la giornata è molto lunga ci sono molti ospiti sicuramente ci saranno degli imprevisti però in conclusione come anche un po' accennato all'inizio noi pensiamo che l'obiettivo di questa giornata sia innanzitutto confrontarci con tutti coloro che si sono occupati di Libia in quest'ultimo anno, in questi ultimi anni qui in Italia e soprattutto in qualche modo con quello che abbiamo a disposizione a oggi fare una sintesi e cercare di lanciare un messaggio chiaro a chi in questo momento può tecnicamente realizzare l'evacuazione dei migranti dalla Libia sappiamo che tre giorni fa 150 migranti sono stati evacuati con un volo aereo da misurata all'aeroporto di Ciampino 150 sono veramente un numero ridicolo dovremmo cominciare da subito a evacuare perlomeno questi 2-3 mila richiedenti asilo peraltro che stanno in questi centri ancora bloccati tra le linee adesso ormai io penso che andare a prendere questi 500 migranti che stavano prima nel centro di Kassel-Wingashiri e ora stanno a Zawia come raccontato sarà molto dura perché a questo punto significa proprio strapparli di mano da uno dei più grandi criminali che c'è in Tripolitania quindi sarà molto difficile ormai per loro tirarli fuori però ci sono ancora molti centri dove l'UNHCR ha accesso in particolare c'è un centro dell'UNHCR a Tripoli che è Gathering and Deperture Facility significa che è un centro proprio dell'UNHCR pensato per ospitare i migranti in vista delle evacuazioni in particolare l'UNHCR ha evacuato diverse migliaia di migranti verso il Niger ovviamente il Niger è una soluzione temporanea in vista di un successivo ricollocamento ma giusto per non lasciarli in Libia perché ovviamente loro sanno qual è la situazione in Libia giusto un'ultima cosa che probabilmente non è priorità in questo momento e so che è anche un argomento delicato però secondo me è giusto parlarne in questo momento perché Exodus, il lavoro di Exodus è stato anche criticato negli ultimi mesi ma io ci tengo a ribadire che tutto quello che io ho raccontato in realtà non è pensiero mio ma lo potete verificare nei messaggi vocali certo, mettersi ad ascoltare ore e ore e ore di messaggi posso capire che costi fatica però è tutto quello che mi hanno raccontato in qualche modo mi hanno insegnato quindi voglio dire questo quando si parla di evacuazione l'evacuazione è a 360 gradi a 360 gradi significa che può essere verso l'Europa può essere verso la Tunisia e in presenza di richiesta esplicita può essere anche il rimpatrio ci sono molti ragazzi soprattutto quelli provenienti dall'Africa occidentale che sono arrivati in Libia in seguito a false promesse e si trovano in una situazione psicologica di inganno si sentono ingannati perché gli era stato detto che nel giro di tre mesi avrebbero facilmente raggiunto l'Europa dopo due, tre anni sono ancora lì perché appena hanno messo piedi in Libia si sono trovati con le catene ai polsi e battuti all'asta come animali nella città di Sava e poi trasferiti successivamente in Tripolitania al servizio delle imprese libiche quindi queste persone come diceva anche la testimonianza che hanno una famiglia a casa stanno chiedendo di tornare a casa io penso, sono molto dispiaciuto che ci siano state come delle barriere ideologiche in questi mesi perché credo che diverse, diverse migliaia di persone di migranti che sono tuttora in Libia in questo momento sotto le bombe magari spinte al fronte costretti a imbracciare un fucile a combattere e a rischiare la vita per una guerra alla quale nemmeno appartengono sarebbero potuti essere messi in salvo semplicemente riportarli a casa come loro stessi chiedevano spero che avremo nel corso della giornata anche il coraggio per affrontare un argomento apparentemente scabroso come questo e quindi grazie a tutti